Ok, avanti, adesso vado a vedere, lancia il razzo, restabili, ok. Fuori dalle tavole, completata. Vabbè, eccolo qua. Vediamo se ci trova qualcuno con cui giocare insieme, così rendiamo la cosa un po' più semplice. Ma non pensi, di solito durante le missioni non troviamo quasi mai nessuno, vediamo. Ok, Clementino. È Clementino, oddio. Quando l'ho fatto io, che ho chiesto aiuto, in tempo due minuti, l'hanno fatta partire la missione. E poi ho detto, a otto, mi sono sciotto tutti. Fatta partire mettendo solamente le mura, neanche una trappola, vedete, vado a giocchiare. E onestamente non so come ho fatto a sopravvivere. E si vede che i ticci erano fuori. E' lavato il pavimento, ma è freddissimo. Ma non mai si spente la caldaia? Aspetta un attimo. Credo non lo sento, però. No, il calorifero è cotto io, mi sono scottato la mano. Il calorifero. Si vede che ha messo... Il calorifero è spento. Si, perché sento il pavimento freddissimo. Eh, dopo si sta spento il calorifero, no? Magari poi il calorifero è spento. Lui mette 35 gradi, no? Si, questo già vuole fare la missione. Ma che è? Ma come fa a fare la missione subito questo? Subito lo vuole... Ah no, ma sta... Si, ma sta potenziando cosa? Sta potenziando cosa sta potenziando? C'ha le cose a livello 1. C'ha fatto tutto di legno. Ma che è? Ma stai scherzando? Ah, tu non sei normale. Guarda, ma... Cioè, è di legno e non ha fatto neanche altro. No, no, solo legno, sì. Non ha fatto nient'altro. Cioè, io mi meraviglio di sta gente. Fammi scherzare qua, va così. O faccio io o faccio. Cioè, non ha capito quella gente che qua è difficile. Non stiamo parlando di pietra legno. Porchio Dio. Ancora, vado a far partire. Madonna, santissimo. Ma se entrasse qualcuno, io gliela farei anche a partire. Dici, vabbè, siamo in quattro. No, 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 che è successo. Dobbiamo ancora... Dobbiamo recuperare un bozzo di materiali, perché questi vogliono far parte il suo... A me la gente è così messa sul cazzo. Vuoi fargli la missione? Allora, la fai da solo e febrile. Dobbiamo anche difendere in alto. Dobbiamo coprirlo tutto. Eh sì, appunto. Cos'è che ha coperto questo? Ha coperto un cazzo. Guarda che stanno già venendo da un po' i coglioni. Eh, stanno già venendo da un po' i coglioni. Si capisce, ma come cazzo è la versione. Questi rompono i coglioni fin da subito. Vado, vado. Sto più a poco, io. Basta, su qualcun altro non ti rompi i coglioni. Hai rotto il cazzo, eh? Io voto no. T'ho la minchia, rotto. C'è la droga, oh. Ha gente che non capisce. Cazzo, farò accogliere un po' di materiale. Ti faccio un muro di legno, ma... Cioè, porco, deve essere il triplo, cazzo. Di quello che c'è lì. Il triplo. A parte che ho bisogno del... del Clementino, ma che sta a fa' Ma hai visto il mio piccone adesso com'è? No. Eh, c'è cosa della zucca. Ah, che di Halloween. Si. Boh, me l'hanno regalato. Si. Ma sono entrato su... Ancora. Ha rotto i coglioni. Ma io lo scrivo sulla chat, eh? S'è la l'unica volta che uso una chat. Cioè, cazzo, ma non vedi che non è... Porca troia. Non è fattibile la cosa. Cioè, ma meno fa fortificare un pochettino. Stai a fare un video e esci. Stai a fare un video pure io e porto la roga. Stai a scritto che sta facendo il video. No, no, non mi ha scritto niente, però... Per la maggior parte è quando vogliono far velocemente perché stanno a fare un video. Facendo la live o qualcosa. Non vogliono far durare chissà quanto. Però, cioè, a sto punto qua stai facendo il video e te ne esce allora. Se vuoi far subito tutto veloce. Stai a fare le casse di vuole. Appunto. Cioè, io non voglio fare le mie otto volte la casse di missione perché la gente vuole... vuole iniziarla subito. Troviamo il materiale che ci serve e la facciamo partire dopo. Dopo che abbiamo fortificato bene. Non che... Metto l'albero di... Allora io la faccio partire. Metto l'albero di Natale e basta. Spero che Babbo Natale mi aiuti. Cioè, a sto punto qua c'è un assenso. Cioè, le cose le fai bene o non le fai trove? Anche perché, porco Dio, la difesa che abbiamo fatto prima era pesantissima. Anzi no, diciamo che era pesante, non tantissimo. Ma pesante era... Perché minchia, poi... Cazzo, faccio dei... Faccio delle zone, porca troia, che uno si spaventa, cazzo. Deciso, eh? Adesso lo fa parte ancora, vada. Sì, perché tanto a un certo punto lo farà... gli darà il via in automatico. Eh sì. Oh! Uno zombie! Sono di livello 40, però il problema è che è di livello 40, però ho contato ammassati insieme e fanno male. ecco, vado a partire. Stage 1 is go! Get ready to fight! Bonus now active! Keep rocket hurl above 25... Deficiente! Ma vada, adesso, si fallisce la missione un'altra volta. manco le trappole che mi ha fatto mezza a terra. No, ma non ho vinto per cui far niente. Adesso ho finito di copia solo di quelli. Ci sto facendo io le trappole, va. Ma noi, le piaccio un po' in giro. Eh dai! No, non ho neanche potenziato le nuove, sono tutte di livello 1. Eh, no, a livello 2 è 2, 6, 4, 6, 4 avanti. Quelle sopra sono di livello 1. Sto potenzial mio pian piano. Già non posso più potenziarlo, perché... non ho più, non ho più la roba. Eh dai, ma ci sono soppini miei. Questa è stata... la gente non capisce. No, lui, e siamo già anche da mente a con lui. Eh, boom! Sto a fulgare. Ma dobbiamo fare solo una? No, mi sembra che ci sono due. No! Sto a fulgare tutto, inimmaginabile sto piazzaio qua. Impossible. Pure quelle sopra sto piazzando. Cioè, guarda, vada, sto piazzando tutto. Tutta da fretta. Eh, è uno scherzo, ma... Parco di oro che si è piazzato qua sopra. Non più roba, io. 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 C'è quello con le api che sta volendo basso di me. Impossible. Cioè, ma io dico, boh. No. Guarda, il foggio potenziale tutto a livello 3. Eh, guarda qui. Porca troia. Eh, mi metto le armi, le armi da me. Questo fantasminino, questi coglioni. paycheck di bank sulla accurate. Non è iniziato. Non è pieno. armi dietro, ascolgiamo. Ops, c'è la mia 111 torti E ole, bravo C'è sto sparando con i missili per placare qua Boom Perché fanno partire, oddio, forse Madonna, questo è intenso, non ci vedo Ma per qui l'aiuto, attenzione Questa cappella sono quasi tutta andata Eh? Questa cappella sono quasi tutta andata Ah, caccia Devo ripiazzarle allora Suu, vada qui No No No, quello no, eh, lo sapevo che ho buttato questo Io ho buttato il missile ma non si ha bancazzo Ci ho buttato... ma che si chiama qua? Ci godo Cioè, ho piazzato quello lì l'antiaerea, porco Dio, si è bancazzo Si è veramente bancazzo l'antiaerea Porca troia Eh, qua il missile mi serve a giu' A me spiace, io no Clementino, qua E' tutto tramite il Clementino Oh, che scelte se manci, io udo Gnacher, cosa è qua? Il Gnacher, si Il Gnacher, ho detto Madonna Ti... Si, le final stage Di nuovo Ma... Io... Veramente Incomprensibile Quando giovano Quando giovano questi E' anche incomprensibile E' buon Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda, sono di qua Porca troia, sono in tantissime Uuuu Guarda di qua, non ti vuole Ma no Però… La gente non sa aspettare Piuttosso Ma... È quello che... Puferà un cazzo Ma' robottino A me... Se si sei sfondato Ma chee' Guarda, questo che viene da me Piuttoso che da un po' Voglia di pari T quer Ma' no male, vado avanti e indi ogr resti Ma' no tenete già la fai ah beh quello si è ah non posso più passare le drappole cazzo ho finito ho vinto il spazio affabile chiama donna io non ce l'avevo finito puri colpi del mitra ma avevo 8000 ma avevo oh no c'è quello lo stronzo di merda c'è il bestione no 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 vabbè ce la stiamo facendo fatto fatto impossible io le picchia no quanti bestioni ci sono mamma mia dai inseguimi stronzetto col frigo in mano guarda qua guarda qua va a cantare a scrivere le canzoni che è meglio oh lei non va che fanno indietro una cosa qual'è che va da tipo la ricorsa io ho finito colpo e non so dai che mancano 30 secondi cristo 75 per cento della mappa perchè sta fatta e scorando la mappa quel coglione mamma mia vale non so non so ma almeno è partito perfetto C'è, ho dovuto piazzare io un botto di trappole in giro. Lugia, 4.000 ho fatto io, non ho mai fatto un combattimento con 4.443. Tutto per le trappole, mi sa. Lugia, 4.443.